Ieri c'è stata una lunga riunione a Palazzo San Giorgio insieme alla Giunta, insieme all'assistenza tecnica del PONMETRO per compilare le ultime schede da presentare nell'ambito del progetto REACT-IU che è un'aggiunta rispetto alle risorse che abbiamo utilizzato nel PONMETRO in questi anni. Si tratta di risorse che vanno a essere individuate per progetti di rigenerazione urbana, riqualificazione di spazi, di beni comuni, ma anche interventi a sostegno della microimpresa, a sostegno dei cantieri di prossimità, a sostegno di tutte quelle azioni che vanno a rigenerare anche sotto il profilo sociale e economico i quartieri della nostra città. Le proposte sono state compilate per tempo, sono state inviate all'Agenzia per la coesione. Ringrazio l'assistenza tecnica del PONMETRO, ringrazio Simona Mauro, ringrazio i funzionari del nostro comune, da Tommaso Cotronei al dirigente Beatino, ringrazio tutti gli assessori, tutti i consiglieri che hanno contribuito a inserire progetti che davvero vanno in linea anche con quella idea di recupero del rapporto con il mare che deve avere la nostra città. Non sveliamo nulla su quali sono i progetti inseriti perché avremo la risposta, se sono stati inseriti o meno, fra 60 giorni quando l'Agenzia della coesione chiuderà il quadro delle proposte da inviare all'Unione Europea.